Bene, rieccoci con un altro video di liquidi, in questo caso, e questo liquido qui è il Cookie Man di Pixel, quindi altro liquido di The Pixel, come avete visto già sul canale gli altri due liquidi che ho provato, questo è il terzo che ho provato io, e praticamente è biscottio di mandorle italiana, né più né meno. Andiamo a provarlo, insieme, dopo questo letto giro, che ho già preparato ovviamente, ce l'aveva da un paio di settimane, ancora un po' che aspettavo, non facevo il video, però vi dico buono. Eccoci, eccoci qua, quindi Cookie Man, Cookie Man, andiamo a assaggiarlo, ve lo provo su, questa combo stratosferica, con il mio nuovo Valhalla 38 mm RDA, lascio qua il link del video, per chi fosse interessato, assaggiamo. Allora, aroma da 10 ml, quindi poi io per rifare a 60, ci ho aggiunto 50 ml di VGPG, a seconda della percentuale più o meno di 60-40, e poi la basetta con o senza nicotina, sempre, ecco, mi pare, a volo. Molto buono, è molto buono, mi raccomando lo stepping qua, lo stepping ci vuole, perché se no viene fuori la nota della mandorla un po' forte, per cui una decina di giorni qua ci stanno tutti, eh, dopo che l'avete fatto, lo lasciate lì tranquillamente 10 giorni e lo riprendete, però è buono, si sente molto bene, ricorda quel biscotto alla mandorle tipico delle zone del sud d'Italia, diciamo, mi piace molto, mi piace molto, bello zuccherino, è bello dolce, non è esageratamente dolce, non è dolcissimo, però c'ha il suo perché, secondo me c'ha il suo perché, date a provarlo nei negozi, mi raccomando, di Smokies, e quindi che dire, i ragazzi di The Pixel ci hanno centrato anche con questo lì, fatemi sapere se vi è piaciuto, se l'avete provato, o se dovete provarlo, se altri di The Pixel proverete come aromi, per assaggiare un po' tutte le varie sfumature di questi ottimi liquidi, secondo me ottimi liquidi, anche all day, perché no? Assolutamente sì, iscrivetevi al canale se avete ancora fatto, campanellina per rimanere collegati, Instagram, Facebook, sapete già cosa dovete fare. Ci vediamo al prossimo video, alla prossima settimana, e un saluto a tutti e poi ci vediamo al prossimo video, a tutti i prossimi video, a tutti i prossimi